Ciao a tutti amici, sono sempre Gagold e benvenuti in questo nuovo episodio di Space Engine in serie Survival Gente, è arrivato il momento, dobbiamo fare i bagagli e partire verso il nostro obiettivo Obiettivo che vi ricordo è quello di trovare un posto, che poi alla fine abbiamo trovato, dove costruire la base aerea Oggi facciamo proprio questo, come potete vedere laggiù a 7,12 km c'è una zona che si chiama Arrivo E a 5,64 km c'è anche una zona che si chiama Possibile Entrata Ebbene, questa è la strada che dobbiamo fare praticamente Qua dentro ho, spero, abbastanza materiali per poter costruire tutto Il mio obiettivo oggi è quello di costruire all'inizio, almeno iniziare, la base aerea appunto Prima di farlo però vi ricordo che dovrò fare più di un giro insomma Perché qua abbiamo in totale, se vado a cercare cement, abbiamo circa 12.000 appunto cement mix Questa ci serve per poter fare la pavimentazione delle piste di atterraggio Ora, le piste di atterraggio per adesso non sono esattamente il mio primo obiettivo Quindi probabilmente utilizzeremo semplicemente lastre d'acciaio Però più avanti, anzi probabilmente se non questo episodio, nel prossimo Vorrei iniziare a utilizzare anche le piste di atterraggio Ora, non ho bene in mente come fare la base aerea Ma penso che, meno male, ci saranno alcuni punti estremamente importanti Parliamo ad esempio di capacità di trasmissione, capacità di produzione energetica Sapete, le solite cose Poi vorrei metterci anche uno o due hangar abbastanza grandi E soprattutto poi un bello spiazzo dove poter fare manovra con i nostri velivoli Allora, io direi che non c'è altro tempo da perdere Partiamo proprio con la formazione Anzi, in realtà il convoglio è già pronto E partiamo e basta, andiamo lassù e iniziamo a costruire, penso Ora, diventerà molto importante ovviamente anche il viaggio A questo punto Perché, ahimè, è buona parte di questo video Quindi spero non vi dispiaccia Ma in questo video qua ci facciamo il viaggio e probabilmente buona, buona parte della costruzione Quindi senza perdere altro tempo Iniziamo Il convoglio sembra tenere Vi ricordo che dobbiamo arrivare prima al lago di ghiaccio Che è la zona dove poi passeremo Per poter raggiungere l'entrata In fondo che avevamo trovato nello scorso episodio Ho fatto... Oh no, 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 così non va bene, così non va bene Così non va bene Vediamo di capirci, convoglio Così non va per niente bene Devo stare attento perché muovere questa cosa qua Sarà molto difficile se continua così Oh, mannaggia, mannaggia No, 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 non va bene così La scorsa volta ci siamo fatti un bellissimo giro di ricognizione Che appunto ci ha portato a trovare il punto da dove poi saliremo oggi Ovviamente poi off camera sono tornato indietro e... Ho visto che al contrario la strada si può ancora fare Ho un po' di paura perché in alcune zone potrebbe diventare leggermente impervio Ma nulla di più, insomma Ok, stiamo andando Un banale viaggio da 7 km potrebbe diventare un'odissea Se consideriamo i danni possibili che può sostenere il nostro convoglio Penso che poi l'intera catena di morchi verrà lasciata lassù In modo tale che io possa utilizzare la motrice per muovermi liberamente Ipoteticamente tornare indietro Sapete, raggiungere quella mobilità che mi serve Per non essere limitato a soltanto quell'alto piano Questa zona qua non è proprio il massimo Eppure che... Ah, no, pensavo non saremmo passati invece Piano Ok, abbiamo ancora tutto E... via, non vedo più nulla E mo? Io devo andare a naso So che in questa direzione bene o male ci dovrebbe essere il lago Ma... Ma cosa sta succedendo? Ma dove sono? Se non fosse stato per l'orizzonte artificiale non avrei capito che ero inclinato Ma io suppongo che di qua ci sia il lago E per forza, se a due chilometri raggiù c'è la possibile entrata vuol dire che... Di qua c'è il lago Sì, 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 questo qua è il lago Oh... Oh, 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 no, 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 no Di qua non si può scendere Ci siamo un attimo impelagati, ecco Ok, penso di aver appiattito abbastanza Probabilmente non basterà Però ci dobbiamo provare Perché sennò si incasina tutto il futuro percorso Andiamo piano Ok, 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 no, quello è il freno a mano Avevo messo il freno a mano io, teoricamente Va bene Siamo passati comunque Ma io teoricamente avevo messo il freno a mano, eh Pare essere tutto posizionato correttamente e non danneggiato A parte qua che manca un'intera porzione di paraurti Ok Riparato Ci siamo, ce l'abbiamo fatta Dopo 20 minuti di traversata No, davvero, ragazzi, sembra andare molto più lento Dico, se è altro che 6 metri al secondo Comunque qua dobbiamo aumentare la velocità Sennò cazzo che saliamo Sennò davvero non ce la facciamo Ok È il momento della verità Siamo arrivati nella zona che abbiamo Abbiamo scautato la scorsa volta E mi sto già rendendo conto Che non ce la faremo a salire Perfetto Ruote Potenza 100% Vai No, non ce la va comunque Oh Ok Modifica Ehm True E gli devo dire di darsi una mossa Ok Posto Quindi ruote Mi era fatta così Va bene Propulsione Sì, grazie Ma non lo sterzamento E infatti adesso riusciamo a salire senza problemi Va bene Niente, alla fine ho tolto il dust Perché sì E l'ho dovuto pure rimettere poi Va bene Ma intanto stiamo salendo Dovremmo riuscire a farlo senza troppi problemi A questo punto Sì, perché sto vedendo che sale è abbastanza spedito Quindi, ok Oh, sta facendo di quei giri Proprio per strade impervie Benissimo Ehm Vediamo Adesso scolliniamo a sinistra No, a destra dovevamo passare Esatto Dobbiamo scollinare a destra Non a sinistra Wow Siamo a 10 km dalla fabbrica di veicoli Ok È il momento della verità Perché dobbiamo arrivare fino in cima E poi ci siamo Siamo arrivati Questa qua potrebbe essere Oggettivamente la parte più complessa Perché dobbiamo passare in una zona Molto, molto stretta Ho spinto i motori adesso Ok, vai Ok 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 Stiamo migliorando Penso si possa dire Con tranquillità Che siamo arrivati Oh yes Eccoci Purtroppo siamo arrivati Con un meteo Che fa un attimo desiderare Ma ok Va bene comunque Ok Benissimo Siamo in posizione E ci siamo Ci siamo Gente Ci siamo Eccoci arrivati Bene Il mondo Che decide bene Di morire Eccoci Ora Io penso che potrebbe Tranquillamente andare Già bene Questa zona qua Ovviamente sarà Un attimo Non esattamente In piano Ma è normale Alla fine abbiamo Un minimo di Di range Su cui lavorare Quindi non mi preoccupo Troppo Mettiamola così Mi prendo dei limiti Indicativi massimi In cui vorrei Lavorare Non so Quanti blocchi siano Sinceramente Sto andando Fin quando il terreno Non si rialza In modo tale Che praticamente Non si veda Wow Non si veda La differenza No è abbastanza grande Ma effettivamente È così che dobbiamo farla Se vogliamo fare La pista L'atterraggio Fatta bene Allora Io suppongo Che come Lunghezza Vada abbastanza bene Considerate che appunto Il grosso sarà La La pista D'atterraggio Poi Vabbè Il resto Sarebbero Tranquillamente Spiazzi Allora Il mio obiettivo Adesso è Delineare L'intera zona Dopodiché vado a prendere Il veicolo da scavo Almeno torno su E facciamo subito Questo lavoro E ce lo togliamo Oh E ce l'abbiamo fatta Collegato Collegato Benissimo Fatemi tirare giù Proprio al volissimo Gli alberi Allora Il grosso del materiale Da rimuovere È in questa parte Qua sopra Ma Tutto il resto Mi sembra Molto molto Più semplice Anzi Sembra proprio a posto Lo guardo giusto Un attimo Dall'alto Oh beh Oh beh Gente È È abbastanza grande È abbastanza grande Penso che mi basterà Però Sì 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 Penso che non ci sarà Nessun problema Mi potrebbe bastare Tranquillamente Bisogna vedere anche Dove mettere le piste D'atterraggio E quante metterne Terebbe bello Metterne più di una Volendo Però Diciamo che non ho ancora Un'idea ben precisa Di come voglio fare cosa Magari Questo qua è soltanto Una bozza Più avanti Va rimpicciolita O ingrandita Non lo so ancora Allora gente Sono Tornato in In base Con Con il veicolo Mi sto rendendo conto Che Allora C'è qualcosa Qua Ecco appunto Mi sto rendendo conto Che c'è qualche problema Con le ruote La potenza Deve essere abbassata Ok Lo spostamento Mi si Ok Il DAS A quanto pare È disabilitato Perfetto Ok Quello che voglio fare adesso Cosa sei tu Eh whatever Quello che voglio fare adesso È Collegarmi Caricare I Non il ghiaccio Ma Bensì Concrete No Semente Qualcosa del genere Ok Container Container Interno Benissimo Abbiamo caricato tutto Fantastico Ok Quindi ora mi fai andare Niente allora Pare che il peso Sia Sconcertante Praticamente Il Il veicolo Potrebbe risentirne Un po' Come potete vedere Si sta appesantendo A vista d'occhio Il che mi Preoccupa leggermente Ma Se riusciamo a bilanciare Bene il peso Volendo Possiamo comunque Muoverci L'idea Quella Ok Voglio dire Si sta Si sta bilanciando Più o meno Posso caricare un po' Nella cabina di comando Praticamente Sto zavorrando Il veicolo Allora Giusto perché Non mi piace Rischiare la vita Io Vado a mettere Dei pistoni Antiribaltamento Perché si Non si sa mai Metterei Di pistoni Antiribaltamento Nella parte alta Ok Ragazzi Penso che a questo punto Ci sia soltanto Da avviarsi Speriamo bene Allora Io sono arrivato qua sopra Voi non vi immaginate La frustrazione Nel dover fare Quella Tutto il percorso E ribaltati E non ribaltarti E cerca di girarti Di nuovo Con i pistoni E' stato Troppo Ok Immaginate una cosa Quando sono Quando stavamo salendo qua Iniziava la notte Adesso E' l'alba Bella che inoltrata Questo significa Che sono passate Da sole Almeno un'ora e mezza Almeno Penso In realtà La registrazione qua Mi dice Un'ora Perché a un certo punto Ho messo in pausa Ma ragazzi Davvero Davvero Frustrante Sono arrivato qua sopra Con Danni Ovviamente Perché si Spacca tutto Ogni 3x2 E Non so nemmeno sicuro Di poter Riparare tutto Mi mancano Computer Con Le botte Che ha preso Sto veicolo Le botte Che ha preso Davvero Non ve le immaginate O forse in realtà Ve le immaginate No Non ne ho idea Sinceramente Non ne ho idea Però siamo arrivati Finalmente Siamo arrivati La pista D'atterraggio Sarà la prima cosa Che costruiremo Perché si Runway Scusate Questa qua E' solo 5000 No Questa non può Essere Solo 5000 Questa sezione Non può Essere Solo 5000 Semplicemente Non può Quella è una sezione Minuscola Come può Essere 5000 Oh mio dio Ma vi potete Vi immaginate Quanti materiali Quanto tempo ci vorrà Per costruire Questa runway Dobbiamo per forza Fare un sito Qua sopra Di costruzione Per forza Per forza Non è Non è proprio Fatti Oh mio dio Cioè di questo passo Ci potrebbero voler Ci potrebbe voler Una settimana Per farla Solo la runway Io Spero che ne valga La pena Io spero Davvero Che ne valga La pena E già così Ci siamo giocati Tutto il cement mix Tutto Tutto Dobbiamo fare Un sito di estrazione Solo per la ghiaia Che sarà Stupidamente Grande Stupidamente Grande Immaginate Un pozzo Per terra Che estrae ghiaia Un pozzo Per terra Che estrae ghiaia L'ho pure Piazzata al contrario Son pure Riuscito a piazzarla Al contrario Son quasi scosso Davvero Son quasi scosso Da Da Questo Ok Che costruire Una base aerea Non è uno scherzo Ma questo Questo rasenta Il suicidio Questo rasenta Davvero Il suicidio Ok C'è una cosa Che però Posso fare Che iniziare A piazzare Tutti i blocchi Ora Questo sarà Un lavoraccio Ma Ma va fatto Quindi Mi rimbocco Le maniche E iniziamo Ok Allora ragazzi Ho deciso Di ridurla So che È tipo Un lavoro Sprecato Quello che Ho appena Fatto Ma Preferisco Ridurla È davvero Piuttosto La allunghiamo Dopo La aggiungiamo Altre intere Sezioni Non mi interessa Ma ora Come ora È un lavoro Mastodontico E penso Che sia Decisamente Fuori scala Partiamo Piuttosto Con una base Un po' più piccola Che potrebbe Essere Poi Migliorata Ma ora Come ora Non me la sento Di fare una cosa Così grande Anche valutando Poi con Gli hangar Le zone di stoccaggio Gas E tutte queste cose qua Non va bene È troppo grande Non l'avrei mai detto Ma mi sa che devo Mettere su una Una cava Ci stavo pensando Proprio ora È possibile Che io debba Mettere su una cava Cioè qualcosa Che estrai Di proposito Pietra Oh No Totalmente fuori Dalla nostra portata Totalmente fuori Dalla nostra portata Allora Facciamo una cosa Io finisco Il perimetro Almeno Saldo Finisco di saldare Il perimetro Appiattisco tutto Con il veicolo Da scavo E tutta la roccia Extra Me la porto giù Così iniziamo A farla processare Per Le migliaia Di Di Pezzi Di ghiaia E di Di cement mix Che mi servono Anche soltanto Appiattire qua Mi prenderà Probabilmente Tutto lo spazio Di stoccaggio Guardate Siamo già al 25% Abbiamo fatto Qualche metro Cercherò di essere Il più chiaro possibile Qua Stiamo Stiamo affrontando Stiamo per affrontare Una sfida ingegneristica Che non ho mai Affrontato Su Space Engineers Cioè voglio dire Lavoreremo Con dei volumi E delle quantità Di materiali Totalmente Fuori scala Quindi Bisogna proprio Capire Quale sarà La scala Dei macchinari O comunque Degli impianti Che dovrò costruire Per poterci stare dietro Ora Io sono tentatissimo Di Non utilizzare Questo veicolo Ma semplicemente Di scavare Con Con delle Tribelle fisse Si scava Tribella fissa Si piantano Qua sul terreno Si costruiscono Un po' Di pistoni E le si mandano avanti Però mi sembrerebbe Di tradire un po' Il senso della serie Il senso della serie Vorrebbe che io Costruissi un veicolo Sempre da scavo Superficiale Ma da scavo Pesante Cioè Roba che abbia Probabilmente Sei Tribelle Non due Potrei farlo Oggettivamente Potrei farlo Però questo allungherebbe Di tanto I tempi Ora Teoricamente Questa serie qua Dovrebbe andare Secondo le mie Necessità Però capisco che Siete voi Che effettivamente La guardate Quindi Quello che vi chiedo È di essere onesti Qua Volete vedere Nel breve termine La base aerea O vogliamo seguire Lo spirito Della serie Perché se dobbiamo Seguire lo spirito Della serie Allora Ci dobbiamo mettere Qua di ingegno E pensare Alla logistica Alla produzione Allo smaltimento A dove prendere Le materie prime Perché chiaramente Voglio dire A un certo punto Qua finirà La pietra Da così Da rimuovere Quindi probabilmente Dovremmo costruire Una cava E cose del genere La cava deve essere Collegata Con cosa? Con dei veicoli Che possano trasportare Va bene Ma quali veicoli? Quanto grandi? Ci seguiamo No qua Quindi probabilmente Servirà Un camion Per il trasporto Grosso Cioè Proprio parecchia roba E inoltre Il terreno Qua non aiuta E se non è un camion Dobbiamo rispolverare L'elicottero Quello che posso fare Adesso È Prendere di nuovo Ovviamente Prendere il veicolo Tornare alla base Riprendere la motrice Portarla qua E rifare un rifornimento Enorme Però ragazzi Quello Quel piccolo Convoglio Quello Non è adatto A fare Quello che stiamo facendo Noi qua Quello ti serve Se vuoi Metterti da parte Un po' di materiali Partire all'esplorazione Costruire poi Una base Dalla quale Partirai Con la produzione Noi siamo Ben oltre Quello Ok? Ci troviamo davanti Ad un progetto Che se affrontato Con l'attuale mentalità Potrebbe prendere Settimane Di lavoro attivo Cosa che Nessuno di noi Si può permettere Perché voi Volete vedere Effettivamente Dei video Dal contenuto Forte O comunque Dal buon contenuto E io stesso Non posso permettermi Di passare Settimane A fare Sempre Gli stessi lavori Quindi Penso che per adesso Chiuderò qua il video Il che mi dispiace Davvero tanto Perché penso Che non verrà Estremamente Lungo Come video Ma mi metto A fare un po' Di lavoro Off camera Principalmente Faccio tutto Quello che avevo detto Prima Quindi porto Tutti i veicoli Giù E riporto Il convoglio Giù Magari mi porto Un po' avanti E inizio Già A piazzare Penso tutti i blocchi Ma non ne sono sicuro Magari il prossimo episodio Ce lo prendiamo E andiamo a costruire La cava Ok? E porto indietro L'elicottero Così iniziamo Magari ad avere Tutte le Possibilità Portata di mano E possiamo valutarle Più concretamente Io però per ora Devo terminare qua Vi ringrazio davvero Tantissimo tutti Per avermi seguito Vi invito a lasciare Un bel mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate Di questo episodio E come al solito Se avete dei consigli O volete lasciare Semplicemente un feedback Fatelo qua sotto Nei commenti Io vi ringrazio ancora Per la visione Sono Gold E noi ci vediamo Con i prossimi video Bye bye Grazie a tutti Grazie.